Ciao a tutti ragazzi siamo nello stand di Sony alle 3 2014 come potete vedere alle mie spalle abbiamo appena provato Entwined, nuovo titolo in sviluppo presso la casa giapponese che è stato presentato nel corso della conferenza pre-E3 di Sony appunto. Il gioco ci ha colpito sin da subito per il suo stile molto colorato e anche per le sue meccaniche che sono semplici ma particolari. In pratica controlliamo due personaggi che sembrano dei draghi o delle fenici non è ben chiaro che cosa siano uno lo si controlla con lo stick sinistro del controller playstation 4 l'altro con lo stick destro bisogna muovere i personaggi in maniera circolare e colpire degli oggetti che compaiono sullo schermo a tempo di musica quindi si potrebbe dire che questo titolo è una sorta di rhythm game. All'inizio gli oggetti da colpire vengono presentati in maniera simmetrica quindi è molto semplice toccarli perché praticamente si sposta lo stick sinistro da una parte e lo stick destro dalla parte diametralmente opposta quindi viene abbastanza naturale. Dopo un po' iniziano a diventare asimmetrici quindi a un certo punto ci troviamo per esempio a dover muovere lo stick sinistro in maniera indipendente rispetto a quello destro e questo rende le cose molto più complicate. Lo scopo del gioco è raccogliere dei globi luminosi che vanno ad aumentare una barra. Quando questa barra raggiunge il massimo premendo i tasti L1 e R1 si uniscono le due fenici fino a ottenere un bonus che ci porta in una seconda fase di livello. Qui passiamo da questo livello tubolare chiamiamolo così a un livello free roaming nel quale dobbiamo raccogliere altri globi luminosi fino ad aggiungere alla conclusione che ci porta in un globo di luce bianca e ci porta verso un nuovo livello quindi c'è una struttura a livelli sempre più difficili con musiche che cambiano. È molto carino e è sembrato anche molto divertente, molto semplice da iniziare perché davvero non c'è nulla da capire anche se non c'era qui nessuno a spiegarci come funzionasse il gioco dopo pochi istanti si capisce immediatamente come controllarlo. Quindi è il classico titolo pick up and play, semplice, divertente, probabilmente intratterrà per molte ore. Non è chiaro quale sarà il prezzo di vendita ci auguriamo che venga piazzato a un prezzo sufficientemente basso perché questo è quel genere di gioco che merita di essere giocato ma che merita anche un prezzo accessibile. Ho detto tutto, dallo stand riservato alla stampa di Sony ho concluso, ci vediamo alla prossima!